Pronti, si ride, via. Direi di poter iniziare con questa boutade per annunciare l'edizione 2015 del Festival Nazionale Teatro Comico. Si riparte dal cabaret, la Fondazione Culturale Val Vibrata ha preso le redini quest'anno dell'iniziativa. Che cosa accadrà nei prossimi giorni? Allora, assolutamente sì. La Fondazione Val Vibrata oggi, diciamo, ha cambiato la sua direzione, ma continuo a portare avanti quello che è un po' il must di questa fondazione che era appunto la risata e il teatro comico. Ripartiamo dal cabaret, ripartiamo nelle date 26, 27 e 28 agosto 2015 con un'edizione particolare, un'edizione che torna al centro storico di Sant'Omero in una piazzetta particolarmente suggestiva con artisti che vengono dal mondo della televisione, cabarettisti di nota fama. E appunto iniziamo il 26 con Marco Capretti e Antonio D'Ausilio, l'uno da Made in Sud, l'altro da Zelig. Poi il 27 agosto con Bruschetta, Zelig e Colorado e Sergio Viglianese da Zelig. E chiudiamo il 28 agosto con lo spettacolo di Antonello Costa. E ovviamente siamo molto orgogliosi di questo. Noi ribadiamo che per noi l'ingrascia è libero, quindi aspettiamo numerosi, in una cornice meravigliosa che è quella del centro storico di Sant'Omero. Sarà un allestimento suggestivo ma soprattutto è stato creato un mini set televisivo che permetterà a tanti di poter gustare su un maxi schermo anche l'evento, visto che spesso la mimica aiuta la risata. Sì appunto abbiamo provato con questa formula innovativa, ci siamo avvalsi di esperti e tecnici che ci hanno dato una grossa mano. Noi ci crediamo e speriamo di un'azio, siamo molto fiduciosi. Altre due le novità, una videocartolina promozionale del territorio che racconta il territorio dall'alto e poi una videosigla, anche questa novità per la prima volta caratterizzerà, infiocchetterà il teatro comico. Sì insomma noi proviamo a cambiare, proviamo a stare al passo con i tempi. È fondamentale che chi arriverà per il cabaret a Sant'Omero, è fondamentale che poi si renda conto di trovarsi in un territorio molto bello che vale la pena conoscere. E appunto questa cartolina ci aiuterà, speriamo, a mostrare il meglio.